L'Associazione di Volontariato di Agrigento, unite per contrastare l'emergenza povertà, lanciano una proposta congiunta al sindaco Lillo Firetto per avviare un sondaggio popolare accessibile a tutti e per restituire inoltre un apposito capitolo di bilancio. Si sono riuniti infatti i responsabili dell'Associazione di Volontariato che operano nel territorio di Agrigento, quotidianamente impegnati a garantire assistenza alle tantissime famiglie bisognose aggredite dalla crisi economica. Si tratta dei volontari di strada, del CAV, Centro Aiuto alla Vita, Unitalsi, Volontariato Vincenziano, Comunità Missionaria Porta Aperte e Caritas Diocesana. Nel corso dell'incontro è stata analizzata la difficile situazione economico-sociale che attanaglia il territorio agrigentino, che ovviamente si ripercuote sulle famiglie tantissime, delle quali versano in grave stato di bisogno. Una vera e propria emergenza povertà che va affrontata con azioni forte e incisive dalle istituzioni, in primis dal Comune di Agrigento, nella consapevolezza delle limitate risorse finanziarie di cui l'ente dispone. Da qui la necessità avvertita dall'Associazione di Volontariato di fare fronte comune e dare vita ad alcune proposte congiunte formulate in una lettera aperta e inviata al Sindaco di Agrigento nell'ambito dell'iniziativa avviata dal Comune di Democrazia Partecipata. Un'iniziativa però addetta dell'Associazione di Volontariato che veda il massimo coinvolgimento dei cittadini e anche di quelli non dotati di strumenti necessari alla partecipazione online o che non abbiano dimestichezza con la tecnologia. Nella lettera vengono avanzate due proposte, l'avvio di un sondaggio popolare accessibile a tutti e l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio denominato Emergenza Povertà per fare fronte alle necessità economiche dei cittadini, a fine di consentire una vera partecipazione democratica nella definizione della destinazione da dare a tali somme. La lettera continua dicendo «abbiamo coscienza di riconoscere che la lotta alla povertà non la vingono i singoli, ma la si vince insieme con azioni sinergiche tra le istituzioni e le varie realtà del welfare locale».